La 6CM è una vettura eccezionale perché inizialmente fa parte di quel gruppo di vetture anteguerra che rappresentano il vero spirito della Maserati, che sono vetture costruite per gentleman driver e per piloti. 6CM è 6 cilindri Maserati, è un 1.5 di cilindrata, sviluppava quasi 165 CV, più o meno, e aveva già il motore sovralimentato. Una delle caratteristiche principali che ha questa vettura è di avere sistema di sospensioni indipendenti con delle barre di torsione nella parte davanti, quindi già nel 36 questa vettura offriva già per chi doveva guidarle e portarle in pista degli accorgimenti che erano veramente unici, tra cui anche la frenatura idraulica che era proprio una delle caratteristiche dei fratelli Maserati. Qua c'è l'acceleratore anche in mezzo, si vede che già allora c'era già questa conformazione. Qualcuno l'acceleratore lo voleva anche all'esterno, qualcun altro all'interno per fare punto e tacco delle volte. Come tutte le macchine del periodo antiguera c'è la pompa per caricare il compressore e con lo strumento a benzina, che tutti credono che sia il livello, invece sono le pressioni del compressore per caricare il volumetrico. È una macchina che ha permesso a tanti piloti, quello più conosciuto italiano è Villoresi, di vincere tantissime gare, tra cui anche la Targa Florio. Un pilota che si chiamava Mauri Rose nel 1938 fa debuttare questa macchina a Indianapolis e da lì, poi successivamente, grazie all'otto CTF, Will Bruchot vincerà la 500.000 di Indianapolis per due anni. È stata una macchina a 6CM che è dato da Fiorio Tocce, da Laera e quelle macchine inglesi. È stato un bel macchinino. La vettura è la 1545, fu consegnata a Fritz Gollin, che era un pilota tedesco. Oggi la macchina la vedete rossa, ma originariamente era bianca. E poi, per varie vicissitudini, la vettura è arrivata in Italia negli anni Ottanta, è stata restaurata da una famiglia di Milano e negli anni Novanta è entrata in Maserati ed oggi è presente all'interno della collezione panina. Grazie a tutti.